Salve a tutti, bentornati sul canale, qui è Massimo Rea. Oggi andiamo a fare un aggiornamento veloce perché siamo a dei livelli molto importanti che se dovessimo perdere o conquistare cambierebbero le carte in gioco. Andiamo a studiare Bitcoin e l'indici come sono messi. Salve a tutti, bentornati sul canale e prima di andare a fare le nostre analisi volevamo avvisarvi che tutta la community, tutti gli studenti avranno la possibilità di usufruire dei nostri profitti che ci vengono dati da YouTube. In che modo? Ogni volta che arriveremo a 100 dollari regaleremo un mese gratuito a ognuno di voi a estrazione ovviamente. Se dovessimo arrivare per esempio grazie alle vostre spolliciate, le vostre visualizzazioni e commenti per esempio a 1000 dollari al mese praticamente 10 persone al mese studieranno gratis con noi. Quindi più voi condividete, più voi spolliciate, più voi visualizzate, più voi potreste studiare gratis con noi. Quindi mettetevi all'opera perché questo canale non nasce a scopo di lucro ma bensì è stato aperto dai nostri studenti per dare informazioni in merito al nostro lavoro. Quindi tutti i profitti del canale li regaliamo a voi. Andiamo adesso all'analisi. Come avete visto a livello settimanale Bitcoin si trova in una posizione decisamente ottimale perché siamo arrivati alla base della struttura, questo mega pitch, e ho replicato una delle bull run, potremmo anche andare a replicare ovviamente quella del 2020 del pre-crollo Covid. Quindi siamo sicuramente a un livello interessante che se dovesse tenere rispetterebbe una direzionalità di Bitcoin che viene mantenuta praticamente quasi dalla nascita. Quindi questo è sicuramente uno dei grafici più importanti da guardare visto che comunque siamo tra i più importanti che adesso andremo a vedere. Siamo alla base di questa struttura, quindi non perderlo sarebbe un grandissimo vantaggio. A livello daily invece ci troviamo ad una candela che viene supportata dal massimo accumulo di tutta quest'area e se non dovesse questa candela oggi chiudere tra quattro ore esattamente come quella precedente, quindi come una doci, significa che abbiamo conquistato un livello che fino adesso ci ha respinti ogni volta. Quindi passare qui sopra significa aver fatto una rottura bullish. Il prossimo livello da attenzionare a livello daily è quando arriveremo qua sotto potremo sbattere tranquillamente come tra l'altro anche qua sopra. Quindi quest'area sarà l'area di attenzione se questa conquista resterà in piedi. Poi vi avevamo mostrato anche questo pitch discendente con la possibilità di entrare shot qui e ogni volta che toccava la parte alta di questa struttura fino a che quando ci siamo visti live ci fu questa rottura e abbiamo iniziato a fare una nuova percorrenza, cioè questa percorrenza qua che come vedete per adesso la stiamo rispettando. Abbiamo quel POC che vi ho mostrato prima a livello daily sotto al sedere e se dovesse tenere per l'appunto questo POC e percorrere ancora questa struttura poi dovremmo andare ad affrontare questo livello qui sopra che ovviamente andremo a vedere come si comporterà. Tutto ciò però ragazzi vi ricordo che dipende sempre dall'America perché la correlazione è ancora molto stretta come vedete in arancione se si segue il Nasdaq si entra anche in anticipo rispetto a Bitcoin si sale anche in anticipo rispetto a Bitcoin quindi anche se avessimo fatto le operazioni su Bitcoin quando Nasdaq si muoveva eravamo comunque in anticipo rispetto a movimenti sia agli scarichi sia alle ripartenze quindi la correlazione è ancora stretta quindi necessariamente dobbiamo vedere come si comporteranno anche gli indici. Partiamo dalle FANG, cioè Microsoft Meta, Amazon, Apple e Google che hanno rispettato questa mega trend con il POC di supporto e la candela di oggi sembra voler tornare all'interno cosa che non hanno fatto le precedenti due che erano andate a pescare qui al di sotto. quindi tenere questo livello che ha una confluenza di un POC e di una dinamica sarà già una prima conquista. Per quanto riguarda il Nasdaq l'area di liquida che io vi faccio vedere già da un po' da mantenere è questa e siamo ancora qui dentro quindi prima cosa ottimale dopo aver attinto leggermente settimana scorsa ora stiamo affrontando i minimi precedenti ve li faccio vedere anche a livello daily che stiamo affrontando i minimi precedenti questa è l'area liquida da conquistare tra cui questo gap che si è creato e ovviamente questa è un'altra area liquida in confluenza con questa quindi questo livello bisogna attenzionarlo perché se dovesse fare come le altre aree liquide dove si crea un order block e poi viene giù area liquida order block e poi viene giù bisogna stare attenti che questa area liquida non creerà un order block e poi torni giù quindi da attenzionare questo livello tra l'altro come sapete già vi abbiamo mostrato il nostro bottom temporaneo in questo video in questo video qui sotto che era siamo al bottom temporaneo che era questo qui andatevelo a visionare perché in quel video vi facciamo vedere i 200 level che ci stanno mostrando ancora una volta che l'indice è entrato nell'area di attenzione che ogni volta ha generato una ripartenza come ha fatto in quest'area qui scusate ho perso il grafico in quest'area qui questa è la prima volta in cui il 200 level entrò in quel livello e poi diete l'avvio fino al POC più forte che poi ci diete l'ultima gamba che avete già visto molteplici volte sul canale da noi analizzare e dirvi che questo era il livello più forte di resistenza per quanto riguarda l'SMP siamo più o meno similari abbiamo questo livello di liquidità che è di colore diverso dove mi aspettava appunto una reazione c'è stata ora dovremo affrontare questi minimi che è in confluenza con questi quindi sarà questo il livello di attenzione per l'SMP a livello settimanale a livello daily dobbiamo entrare in quest'area liquida ve lo faccio vedere quest'area liquida qui anche qui dobbiamo stare attenti che non andrà a generare come in quest'area liquida un order block e poi venire giù quindi attenti alle aree liquide che poi generano un order block e mandano giù il prezzo quindi occhio a come si comporterà in quest'area oltre al 200 level del Nasdaq abbiamo anche il 200 level dell'SMP che raggiunge il primo livello di attenzione che dava nel passato sempre una ripartenza all'SMP tranne nel crollo Covid e nel crollo del 2008 che fu ovviamente la crisi quindi questo è lo scenario peggiore se ci dovesse arrivare questi sono i ritracciamenti normali dell'SMP che quando lo tocca fa ripartire l'indice quindi occhio anche a questi indicatori domani ragazzi ci vedremo anche live noi ci vedremo alle 15.15 ma ci sarà anche la testimonianza di Powell quindi domani in diretta vedremo anche la sua testimonianza vi ricordo che tanto più voi spolliciate tanto più avrete la possibilità di usufruire anche voi perché daremo la possibilità a tutti come se ci si può iscrivere per ottenere questo il vostro possibile mese gratuito basta andare sul nostro portale WM Trading Management andare alla sezione membri ed iscriversi così sarete elegibili per ottenere ogni volta che noi raggiungiamo i 100 dollari il regalo un regalo mensile dei nostri corsi grazie per essere passati vi ricordo più voi spolliciate più entreranno soldi più voi potrete studiare gratis ciao a tutti